Ciao a tutti, io sono Chiara. E io sono Carlo. E siamo degli studenti del liceo Maffei, qui a Reinventore per un'attività di alternanza scuola-lavoro. Oggi andremo a parlare di acidi, basi e indicatori. Gli acidi e le basi sono sostanze che hanno la capacità di corrodere. Alcune sostanze, come l'acido muriatrico, hanno un'altissima capacità corrosiva, altre ce l'hanno minore, come per esempio l'aceto. Ma invece hai parlato di indicatori, cosa sono? Gli indicatori sono delle sostanze che hanno la capacità di rilevare quali sono le sostanze più acide e più basiche. Da tempo in memore si è sempre saputo che esistono dei vegetali, come ad esempio la violetta, in grado appunto di rilevare queste proprietà. Ma il primo scienziato a fare uno studio approfondito su queste sostanze è stato James Watney, il quale aveva a disposizione appunto, come abbiamo già detto, la violetta. Ma un giorno, trovatosi senza violette, cercò di vedere quali altri ortaggi avessero queste proprietà. Quindi iniziò sistematicamente ad analizzare le proprietà dei singoli ortaggi e scoprì che il cavolo rosso, anche detto cappuccio, era perfetto per fare ciò. Allora adesso vi facciamo vedere come creare in casa queste cartine indicatrici di cavolo rosso. Prendiamo il nostro cavolo rosso, lo tagliamo in due, ricordatevi di areare locale in quanto già da crudo, puzza molto. Adesso lo tagliamo a fettine più sottili anche per velocizzare la cottura. Le mettiamo in pentola. Riempiamo con l'acqua fino a che sono coperti anche poco. Lo mettiamo sui fornelli, lo portiamo a ebollizione e una volta che bolle lo lasciamo per 5 minuti. Intanto copriamo. Dopo che ha bollito per 5 o 6 minuti lo portiamo in uno spazio aperto come può essere il balcone e lo lasciamo raffreddare per un'ora. Bene, adesso abbiamo lasciato raffreddare il succo e abbiamo intinto questi fogli di carta assorbente dentro appunto il succo. Ovviamente sarebbe meglio avere una teglia abbastanza larga da poter intingere i fogli in modo che siano distesi. Lasciamoli per una decina di minuti. Poi abbiamo versato il succo rimasto dentro la bottiglia, quindi possiamo vedere come le sostanze reagiscono con i liquidi e con la carta. Bene, adesso andremo a fare un esperimento, ma naturalmente ci servono dei vestiti più consoni, quindi adesso ci cambiamo. Bene, adesso magicamente sono apparsi anche dei bicchieri in una pipetta che ci facevano proprio comodo. Riempriamo il primo bicchiere con il succo, un altro con l'acqua, uno con l'aceto, che è un acido a bassa intensità. E poi prepariamo una soluzione di acqua e di bicarbonato, che è basica. Ora andiamo a vedere come reagiscono le diverse sostanze. Ora tagliamo delle striscioline di carta indicatrice. Adesso andiamo a mescolare l'aceto e la soluzione basica. e andiamo a vedere che il loro colore diventa simile a quello dell'acqua, che è neutra. Grazie. 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 Oltre alle cartine che abbiamo fabbricato noi che sono artigianali, ci sono anche alcune più professionali. Un esempio sono queste, dove sono riportati anche i diversi colori in base al pH, quindi all'acidità. Per oggi è tutto, mi raccomando ricordatevi di mettervi la giacca quando andate a portare sul balcone il cavolo rosso per non finire come me e ciao! Grazie!